E allora, qualche giorno fa abbiamo provato il caffè con la panna. Mescolo il caffè. Stesso cucchiaino, stessa tazzina. Non si sente un fico secco. Se era femminile non si sentiva una fica secca. Il suono è meno forte. E non ha quelle variazioni da grave ad aguto. Il braghi d'attilo vi saluta, è stato bello.